Cosa? Cos'è skill mission? L'ho già sentito a tutto modo di dire. Come va Nick? Eh, di bo... Eh, vabbè, Nick fa cashare. Bug cash. Chi è? Eh, sono io. Vediamo un po'. Ecco, scattavo il mouse. Eh, non lo so mai. Eh, dopo lo sistemo, fin l'alto. Vedo l'audio che prima l'ho stoccato, sì, va bene. Ok. Ah, bene, ah, sto luccando. Ah, stai studiando, ok. Allora, adesso ho capito come funziona. Con la E si spara. Non è malvagio se gioco, però giochi così di strategia a me non è che mi piacciono tanto. Magari è solo spara spara questo, se è così, beh, mi piace, se spara spara. È diabolo spara spara. Di qua si può andare? No. Adesso arrivo in tutti gli alieni. Che ogni tanto si blocca. Non so perché. Ecco, una pila a porta. Ciao Franco. Eh, ritornato. Ho cambiato gioco. Sto provando questa che è una beta. Eh, non si rompe? Ah, ci vogliono gli esposivi. Oh, cazzo. Ah, è dietro. Ah, è vero. Forse è quello, dici? Come faccio a mettere in pausa? Ehm, dov'è? Ehm, dov'è? Ehm, dov'è? Ehm, dov'è? Ah che è già disabitato Ok Alla meglio Non so perché è cacciato prima Cosa devo fare? Qua Dice usare la bomba, ah ok Non dicevo a sinistra, a destra Si si è una beta si 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 La puoi scaricare La puoi richiedere da Steam e te la danno subito, basta che chiedi Nick e te la danno A me l'hanno andata subito Anzi me la mette ma... Ah si me l'ha andata subito E oggi l'ha messo da scaricare visto Cioè mi sono accolto Ah per quello che è una beta Ah che, che sca... Succede nel casino Dove se è che si può giocare con i tuoi amici Penso Ah qua è chiuso Ah lucente la... Ma hanno arrestato praticamente Sono riuscito a scappare attraverso le fogne Poi mi sono stufato Che non so... Eh perché non lo gioco subito quello Ah mi dice andare di qua Perché non guardo gli obiettivi E' bello bello si E' per averci il tempo Ecco Non so cosa ho fatto Ma qua è chiuso Credo guardare se è uscito da un capitolo di un gioco Non è venuto in mente adesso Chi... Ah Eh Overwatch Ah qua è chiuso E questi non ho capito i punti di domanda Ah si può usare Forse nella beta non può usare Non ci sono Non ci sono Non ci sono Ma ci sono In questo caso sì qui che prendi a Oh, esposivi, pia pia Ah, ecco, basta che faccio così Ah, devo andare per forza in giù Ah, adesso sto capendo Spavento, ho sparato Il labirintoso non riesco a trovare la strada Ah, ma cammina in automatico Dove sta andando? Scusa, qua c'è qualche porta ad aprire, non capisco Quello faccio ad andare lì? La mappa? Ah, c'è un terminale Un po' faccio girate le camera Ah, mi so che si fa con le Ah, si può anche girate le camera Ah, ecco L'ho fatto L'ho fatto L'ho trovato Fatto qualcosa? Ah, guarda Ah, c'è roba qua Ma non si muove la telecamera adesso Beh, non mi piace Non mi piace, capisco cosa devo fare Adesso che cavolo di gioco posso provare Cavolo Ah, continuo con il gioco di ieri Non mi piace Esce Ah, però voglio vedere se c'è l'online Vero Scusa, non si può anche uscire Ah, qua Ehm, qui Noi nuova questa qua Casa Ah, posso fare solo Online Ah, ecco Ah, questo per farlo io Ho capito Come faccio uscire? Esce Ah, ecco Ci sono i server Due giocatori Giocano molto Adesso Non si può Niente Non mi piace tantissimo Ah, rimettiamo Continuiamo il gioco Che stavo facendo ieri Dei mostri Quello non mi piaceva Ah, è un monte santo lì Dove, dove, dove Negozio che ricopri il gioco Titolo Ma hanno detto che Verso la fine è difficile Comunque Diventa difficile Anche Francesco Monica Ma ha detto che è difficile Questo giochino All'inizio è facile Cambiatto c'è Cambiatto c'è Nasi Sì Sì Il mostro Sì, quelle Mostre Santoni giallo no quello che sono devo catturare i mostri tipo pokemon ok incolla ok no ma perché non mi ha messo la categoria ogni tanto impazzisce oh adesso non mi ha messo ok chiudiamo avviamo il gioco la schermata è qua si quello che mi ha dato anche i maier fra l'altro non sapevo anche che era così bello sto giochino ecco adesso posso giocare con pod ho staccato il cavo è un'oretta gioco con questo no stavo facendo una nuova partita ok penso che ho messo scomodo ok si sono allora dove che non vuole dare ah liè ah ha trovato la chiave aspetta ogni tanto c'è una porta chi è la porta chiave sto vicino la porta che devo aprire quella chiave lol se non mi ricordo lo che era Forse la sui di qua No, non ci arrivano No, eccola Ah, questo lo fai in cielo di là No, non era questa Non mi ricordo dove era Andiamo a cercarla Magari sulla mappa si vede No, non c'è Mi ricordo un po' è Hollow Knight Come è fatto così Ah, c'è uno schigno là Ah Non è più due, questo è meglio Qua mi sa che c'è qualcosa che posso rompere Secondo me, vediamo Non mi c'è nada Oh, uno schigno Chiave e caverna Benissimo Dove è la chiave Andiamo a vedere Da per tutto Chissà come funzionano online Questo gioco Ma c'è un teletrasvolto Lassù forse E' dopo un altro Sono anche caduto Sono certissimo Posso andare all'inizio Sì, dai Qua vuole andare Dove sono Non è più non è giusto che stanno tendono da di giurabasso Non andare sulla parte blu. Ecco giù di qua. Oh adesso sta chiave 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 porta che serve la chiave per appena. Alla sono in testa ma tagliamo. Debole all'acqua. Debole all'acqua. Ma sciccolato. Ok. Debole all'acqua. 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 ando a pulare quello ah morto dici fumo oggi o continua continua allora vediamo un po la porta mi so che è sopra mi so caduto bello è saltato che lui ha fatto la finta non esco alla mezza fuoco non è sicurato tutto 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 aspetta anzi c'è qualcosa che non guarda ok fatto fatto no qua è resistente qua ok incendio grazie 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 ammazzo mi ho fatto un danno no ho sbagliato come sale guarda tanto è molto la la lo cavolo è sta porta qua c'è qualcosa mi ricordo che c'è una porta da aprire però non mi ricordo dove posso dire ecco la no non è quella ma dunque di qua allora di qua ah c'è qualcosa di strano qua non è di qua no mi è saltato senza volerlo no di qua mi sa che non è di qua non sono andato però stavo guardando la mappa e non ho guardato l'imici non fa niente cosa si soffrono mi senta una piaccia acida sento che il funghi è a piaccia acida ai funghi no tutto 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 no non può voler farla un po' più seriosa si toglie di più no vado a curare quello dopo no curiamolo no 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 ok pistaccio incendio ah uovo di fungus ah fatto che livello punto talento allora pensiamo un po' questo che cos'è ma c'è ma c'è no 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 a posto poi cosa mi ha dato no 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 Ah, sono schifo. Eh, basta. Anello Vitali 2, no? Ah, ecco, lo metteva lui. Vediamo un po'. Ah, poi con questo non c'è niente. Ah, a parte che me li togli dopo, se li prendo. Non mi ricordo dove la porta, mannaggia la mia memoria. Non è che ha qua il percursore. Qua. La porta. Andiamo a vedere qua. Si chiede a fare tutto dito di qua. No! Ah, eccola! Allora qua. Che guarda. Chi è? Che so? Chi è? Chi vola? Ah, lei l'ho presa al volo. Debole, ehm. Ah, spalla melma. Ok. Che vuole fare faccia il volante, eh? Insomma. Ah, fa l'altra lava resistente. Ah, fa l'altra lava resistente. C'è un po' che vuole fare faccia il volante. Oh! Oh! Sì! Che vuole fare tutto da più! No, no! No! E' un po' che vuole fare! Forza... Fistaggio. Ah, guarda, ci sentiamo che dov'ulti finire due cose per domani. ok a domani da se nick per la compagnia ci stanno domani ciao devo io più giovani un congelante io che gli fa male è quello debole alla forza ne usiamo la lampa qua ne usiamo questa c'è un incendio anche così no il pagliato dopo la dire il tizio qua chiamo tizio no è morto cosa che si fa male è quella foglia non c'è nessuno non ce l'ha questa la foglia questa si ahia quali quali amolo ok ok ah cazzo incendio ah mazzo mi ha fatto male comunque cotone ah talento ahiaia punto talento mmm dolce di pietra ah questa è buona facciamo intanto è meglio fare così che ogni tanto c'è qualcosa nascosto ogni tanto ahahah ahahah uno skin news cintura a livello 2 perché c'è davvero ancora una piccoccietta qualcuna ecco qua a posto andiamo di qua anzi andiamo a vedere cosa c'è di là anzi andiamo a vedere cosa c'è di là ci vorrà un altro animale credo tu vuole in giro ci vorrà un altro animale credo tu vuole in giro andiamo giù eh andiamo giù eh andiamo qua non ho sbagliato si no ho sbagliato cosci cosci perchè qua sto rumori peggio eh ah questo si abbasso forse ho capito no lasciare qualcuno qua sopra vabbè capisco si apre uno schegno registriamento livello un mostro a due livelli più sotto ma c'è uno di questi ma che non teniamo che sta alla porta un po inquietante trovasse proprio di fonte vero il mio istinto mi dice che si sono i mostri pericolosi in agguardo dietro la porta a giudicare quelle prese che ci conta la porta sempre che abbiamo bisogno di 5 particolari oggetti rotondi per aprirla sono ancora l'inizio del nostro viaggio ho la sensazione che alla fine torneremo qui apriremo questa porta non preoccuparti sono al tuo fianco per fidare l'ignoto a trovare i cinque oggetti che vanno lì ok dai di qua dai combattiamolo allora debole a quello piaccia c'è è l'esistenza fuoco allora ok forse è molto 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 è morto no vabbè adesso si è morto si fa male facciamo piaggiarci davvero di volete prestano una di queste faccio poi e lo faccia con manuale ok vai ciao franco grazie compagnia franco cazzo tante chio chio sta un po stacco quanto inizia francesco monaca stacco che inizierà tra 10 minuti 6 e mezza grazie per la compagnia alla prossima franco deboli debole poi ho tempesta di fiume di fiume di ah li fa più male quell'altro cavolo do cura la gente adesso lo puliamo a 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 che buone ah è morto è durato un po' questa battaglia uovo di fosti allora è inventato ah qualcosa lì allora no, facciamo qua ok, ah no poi ah questo forse ah no, non ce l'ha non ho anche il contatto questo cos'è? si facciamo qua poi facciamo qua facciamo qua facciamo qua facciamo qua adesso poi barriere a livello 2 anche questa di fusione ma intanto dopo vedo quanto sono la poi cosa mi ha dato? inventario risentivo livello per la metà di livelli niente ah uno skin wow questo è interessante posso fare il doppio salto qualcuno ho detto basta che non da un pc difesa più 32 difesa più 32 ah ma come si fa a mettere quello ha messo che è una cosa che si mette in automatico fa vedere ah si è una cosa che mette in automatico ok adesso posso raggiungere i punti in alto vediamo se c'è qualcosa qua vediamo se c'è qualcosa qua adesso si si che è un altro gioco sotto ho già ispezionato ok si andale di là ho già ispezionato andale di là ecco cosa serviva per andare qua le eh figata che mi sono buttato per vedere che è una scena sotto eh chi si fa in Lambert ecco ne la no come faccio ad andare là amici amici la 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 è che sbatte la testa fatta puzza l'età fa pensare in umbole in umbole cazzani lol ha duke ande ci arrivi sto pensando se cazzen ce l'avevo fatten Come ho fatto prima? Doh! Allora Doh! Mannaggia mi è scivolato Ho capito come devo fare Non essere più concentrato Beh Oh Non c'ho fatta Nocciola Ah da mangiare Vediamo Sì Difesa 13 A lui Ok Ciao Bonzo che cos'è? Ah materiale Ah materiale qui Perché aree Oh Oh Ah Ah Oh non su ah ah qua ci vuole un potere di uno non mi ricordo qua ah del micio e perché si fizza sta cadendo il pad conchiglia 2 che ce l'aveva una conchiglia normale ecco qua non ce l'aveva lui e adesso devo andare su ah ah bingo chi è? alchimista eh tu che si staresti potrebbe essere pericoloso proseguire in questa direzione specialmente per qualcuno così giovane